Anche quest'anno Chioggia si tingerà di blu. Tra pochi giorni, infatti, nel periodo dal 21 ottobre al 1 novembre, riparte la manifestazione Ottobre Blu, la Kermess dedicata interamente al mare, cultura, sport e folclore, promossa dall'ASPO Chioggia, in collaborazione con la Marina Militare, l'ANMI e il Comune di Chioggia. Una manifestazione che nelle precedenti edizioni ha riscosso numerosi apprezzamenti ed un notevole successo, facendo giungere in città migliaia di visitatori da tutta Italia. Una serie di eventi che hanno coinvolto l'intera comunità clodiense, le sue associazioni sportive e culturali e molti imprenditori locali, e che ha prodotto sul territorio un'importante ricaduta economica, promuovendo nel contempo il porto commerciale, le sue banchine e i suoi operatori. Questa terza edizione di Ottobre Blu prevede un ricco calendario di mostre, spettacoli, conferenze e manifestazioni sportive che si svolgeranno tra il Centro Storico e l'Isola dei Saloni. Il Polo Culturale trova posto nel cuore della città, organizzato in diversi spazi espositivi, dove saranno allestite varie mostre, da quella sul pittore di Marina Rudolf Claudius, all'esposizione al pubblico della Polena della storica nave scuola Cristoforo Colombo, dai modellini in scala con relativi cimeli di leggendari unità navali della Marina Militare, alla mostra fotografica Lampedusa Porta d'Occidente, dedicata al ruolo svolto dalle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, nell'opera di recupero e salvataggio a mare dei numerosi profughi provenienti dalle coste nord-africane. Il Polo Tecnico Formativo sarà situato invece all'Isola dei Saloni, presso la nuova palazzina destinata ai servizi portuali. Ci sarà lo stand dell'Onda Italia. Si potrà interagire con diversi simulatori di navigazione e si potranno, nei giorni 21, a 22 e 23, fare delle visite a bordo di varie imbarcazioni da lavoro. Nei giorni dal 27 al 29 saranno invece ormeggiate e si potranno effettuare visite a bordo di alcune unità navali della Marina Militare, tra cui due pattugliatori, Spica e Dorione, ed una corvetta, la Sfinge. Sarà inoltre attivo il centro promozionale della Marina Militare. Ampio il programma delle regate, che quest'anno hanno un ruolo centrale all'interno delle manifestazioni sportive, che comprendono anche il trofeo di scherma e il tiro a volo. Graditissima ospite della città, sarà anche quest'anno la Banda Centrale della Marina Militare, che in più occasioni allieterà con le sue note musicali il ricco carnet di eventi e spettacoli. Nutrito ed interessante anche il calendario delle conferenze e dei convegni, dedicati principalmente al tema centrale della formazione, dell'etica e del comando nella cultura marinaresca, che si legherà anche ai temi del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia. Questo per sommi capi il programma di Ottobre Blu 2011, che è veramente ricco di eventi e manifestazioni, e che lasciamo a voi il piacere di scoprire. Per essere sempre aggiornati sullo svolgimento degli eventi, si può visitare il sito www.ottobreblu.it, da cui è possibile accedere a tutte le informazioni utili e necessarie. Buon Ottobre Blu a tutti voi!